Ciao a tutti ragazzi, bentornati in questo nuovo video. Oggi è sabato e oggi è un sabato in cui non si gioca la Serie A, non gioca la Juve, tranquilli potete non mettere a formazione il fantacalcio anche se in realtà sarebbe comunque troppo tardi perché ormai si gioca sempre al venerdì sera. Non ci sarà la conferenza stampa dell'allenatore, non ci sarà l'analisi della prossima partita per quello dobbiamo ancora aspettare un pochino, altri sette giorni poi iniziamo veramente con un aprile di fuoco e quindi questa è una delle rare volte in cui nel prossimo mese avremo dei momenti di quiete, di calma, di tranquillità, di relax e quindi voglio cercare insieme a voi di andare dentro questo relax ma comunque a tinte bianconere. Quindi ho utilizzato un'intelligenza artificiale, non so se conoscete ChatGPT, se dovrebbe chiamare, vi lascio comunque il link qui sotto in descrizione, sì ChatGPT, praticamente è una chat in cui voi andate a fare delle domande, andate a creare un dialogo con questa intelligenza artificiale e tramite le informazioni che ha reperito, le notizie, le nozioni che ha preso all'interno di quelle che sono le chiacchierate o comunque di testi che trova all'interno di internet, va a scanagliare completamente, a scannerizzare internet e a trovare risposte, prova a costruire un dialogo insieme a te in base a quello che gli vai a chiedere. Io gli ho fatto delle domande sulla Juventus, è stato carino, dai simpatico, una roba del genere, ho chiesto alla chat, all'intelligenza artificiale, alcune cose riguardanti la Juventus e vi voglio mostrare quello che mi ha risposto. Ovviamente potete provarci anche voi, è completamente gratuito e anzi più iniziamo a parlare di Juventus a questa chat e più andiamo a migliorarla perché alcune cose, vabbè dai non voglio spoilerarvi niente, passiamo alla prossima schermata. E quindi gli ho detto ciao e lei mi ha detto ciao, come posso aiutarti oggi? E gli ho detto puoi dirmi quando la Juventus vincerà la prossima Champions League? Io sono proprio partito con calma, con i piedi di piombo, sono andato umile e giustamente lei mi dice mi dispiace ma non posso predire con certezza quando la Juventus vincerà la prossima Champions League o se lo farà mai? E qua mi è scesa una lacrima perché ho proprio detto ecco neanche sull'ipotetico, la Champions League è una competizione molto competitiva, ci sono molte variabili che possono influenzare il risultato di una partita. Anche le squadre che sembrano essere le favorite possono perdere in qualsiasi momento, tuttavia la Juventus è una squadra molto forte e ha vinto la Champions League in passato quindi potrebbe avere buone probabilità di vincere in futuro. Allora io gli ho chiesto che cosa serve la Juventus per vincere la Champions League e lei mi ha fatto un elenco e mi ha stupito perché mi ha detto Per vincere la Champions League la Juventus ha bisogno di un insieme di fattori tra cui una squadra forte e ben equilibrata con un attacco potente e una difesa solida, un allenatore esperto e capace di guidare la squadra nel corso della competizione, una buona strategia di gioco che tenga conto delle forze e delle debolezze degli avversari, una buona dose di fortuna poiché il calcio è uno sport in cui possono accadere imprevisti, una mentalità vincente e la capacità di affrontare la pressione delle partite decisive, una buona preparazione fisica e mentale per affrontare al meglio Il calendario fitto della Champions League, un forte sostegno da parte dei tifosi che possono aiutare a spingere la squadra verso la vittoria. In sintesi, per vincere la Champions League la Juventus ha bisogno di un mix di talento, esperienza, strategia, fortuna e determinazione. Ci rendiamo conto che ci ha messo un nanosecondo, io gli ho fatto la domanda e vedevo che me la compilava un mezzo secondo per scrivere una roba del genere e allora io dato che mi parlava comunque anche di io gli ho detto il progetto Next Gen della Juventus sta rendendo bene e qui iniziamo a scricchiolare perché mi ha risposto. Il progetto Next Gen della Juve è un'iniziativa che mira a sviluppare giovani talenti e a formare una nuova generazione di giocatori di alto livello. La Juventus ha investito molto in questo progetto costruendo un centro sportivo all'avanguardia e attirando alcuni migliori talenti giovanili in Europa e fino a qui ci siamo. Finora il progetto Next Gen sembra aver avuto successo con diversi giovani giocatori che stanno emergendo e avendo successo sia nella squadra giovanile che nella prima squadra. Ad esempio giocatori come Dejan Kulusevski, Matais Delite e Federico Chiesa sono stati acquisiti dal progetto Next Gen e stanno avendo un impatto significativo sulla squadra. E qui inizia a non essere proprio... Tuttavia il successo del progetto Next Gen non può essere misurato solo in termini di vittorie o di affermazioni dei giocatori ma anche in termini di sviluppo lungo termine dei giovani talenti e della loro capacità di diventare giocatori di alto livello. In questo senso il progetto Next Gen sembra essere sulla buona strada ma solo il tempo potrà confermarlo. Quindi una prima parte è enciclopedica, una seconda parte in cui mi ha raccontato delle bagianate e una terza parte condivisibilissimo. Allora io gliel'ho fatto notare e ho detto attenzione però la Next Gen è la seconda squadra della Juve. Chiesa Delite e Kulusevski sono stati acquistati sul mercato e infatti ha iniziato ad imparare, ad apprendere. Hai assolutamente ragione, mi scuso per la mia inesattezza. La Next Gen della Juventus è la squadra giovanile del club e il progetto Next Gen mira a sviluppare i giovani talenti provenienti dall'Accademia e dalle squadre giovanile del club. In effetti i giocatori che hai menzionato, Chiesa Delite e Kulusevski, sono stati acquistati sul mercato estivo Kulusevski in quell'invernale, eh? Attenzione! E non sono prodotti del progetto Next Gen. Tuttavia la Juventus ha comunque investito in giovani talenti provenienti da altri club dimostrando di puntare anche sul futuro e sulla crescita a lungo termine della squadra. Mi scuso ancora per la mia inesattezza e ti ringrazio per avermi corretto. E qui ChatGPT ha imparato, ha appreso da un suo errore. E io gli dico, nessun problema. E allora dimmi, quali sono i giocatori della Juve usciti dal vivaio negli ultimi anni? E volevo provare la febbre, per vedere se aveva effettivamente capito o compreso il suo errore. E mi ha detto. Negli ultimi anni, la Juventus ha visto emergere diversi giovani talenti provenienti dal suo vivaio. Tra cui Moisey Kena, attaccante italiano classe 2000, ha giocato per la squadra giovanile della Juventus, prima di esordine in prima squadra nel 2016. Kena è stato poi venduto all'Everton nel 2019, ma è tornato in prestito alla Juve nel 2021. Perfetto. Daniele Rugani, difensore centrale italiano 94, ha iniziato la sua carriera nella squadra giovanile della Juventus nella primavera. Prima di esordine in prima squadra nel 2015. Rugani è stato poi ceduto in prestito all'Empoli nel 2020. Ed effettivamente Rugani ha fatto parte della giovanile della Juventus, poi non è stato ceduto in prestito all'Empoli nel 2020, ma è passato prima dall'Empoli per tornare alla Juve. Bene o male ci siamo. E poi iniziano i problemi, perché mi dice. Stefano Sturaro, centrocampista italiano classe 93, ha giocato per la giovanile della Juventus, prima di esordine in prima squadra nel 2014. Sturaro è poi stato venduto dal Genova nel 2019. No. No. Sturaro veniva dai giovanili del Genova, la Juventus l'ha acquistato dal Genova e poi l'ha rivenduto al Genova. È un altro discorso. Io qui non so dove l'abbia tirato fuori. Federico Macheda. Come Federico Macheda? Attaccante italiano classe 91, ha iniziato la sua carriera nelle giovanili della Juventus. Ma quando mai? Prima di esordire in prima squadra nel 2007. Voi ve lo ricordate? Macheda nel 2007 che giocava per la Juve. Tra l'altro nel 2007, se io nel 2006, che sono un 92, avevo 14 anni, Macheda cosa aveva? 14 anni pure lui. Quindi Macheda nel 2007 ha 14 anni, dopo aver fatto le giovanili della Juventus, ho detto in prima squadra a 14 anni. Ve lo ricordate? Io no, però. Macheda è stato poi ceduto in prestito a varie squadre italiane e straniere, attualmente gioca in Romania. Io davvero non ho idea, non so che motivo gli è venuto in mente di Macheda. E poi dice Claudio Marchese, centrocampista italiano classe 86, ha giocato per la squadra giovanile della Juve prima di esordire in prima squadra nel 2006. Marchese ha poi giocato per la Juve per diversi anni, vincendo numerosi titoli nazionali e internazionali. internazionali non me ne ricordo, ma facciamo finta di sì, prima di riterarsi nel 2018. Questi sono alcuni esempi di giovani talenti che sono emersi al Viva della Juventus negli ultimi anni. La Juventus ha lunga tradizione di formare giovani talenti, non so, e ci sono molti altri giocatori che potrei menzionare, non ne ho idea di quali siano, perché negli anni, cioè è quest'anno qui, è quest'anno qui in cui la Juventus è iniziata a tirare fuori dei giocatori, ma è lunga tradizione, insomma. E io gli ho detto, non sono d'accordo, alcune di queste informazioni non sono corrette. Mi scuso se ho fornito informazioni inesatte, vi piacerebbe chiedere eventuali errori che ho commesso a fornire informazioni corrette. Potresti per favore indicarmi quali informazioni non sono corrette e fornirmi i dati corretti? In questo modo potrò correggere eventuali inesattezza e fornirti le informazioni che stai cercando, grazie. Gli ho detto, certamente, ma che desturaro, non sono prodotti del vivaio. E dice, mi scuso ancora per la mia inesattezza, hai ragione, Machede e Sturaro non sono prodotti del vivaio della Juventus. Federico Machede è cresciuto nel settore giovanile della Lazio e in seguito ha giocato per la squadra giovanile della United. Ha poi esordito per una squadra con la United nel 2008, che non mi sembra nemmeno nel 2008, però va bene. Stefano Sturaro invece è cresciuto nel settore giovanile del Genoa e in seguito ha giocato per la squadra giovanile del Pescara. Ha poi esordito in Serie B con il Modena prima di trasferirsi alla Juventus nel 2014. Ti ringrazio per avermi corretto e mi impegnerò a essere più preciso in futuro. Ci mancherebbe, siamo qui. Anzi, siamo quasi alla fine. Domanda, Allegri sarà ancora allenatore della Juventus nella prossima stagione? E ora preparatevi, preparatevi perché siamo arrivati in un buco nero dell'universo. Mi ha detto, al momento a cui sto rispondendo, la situazione è ancora incerta. Attualmente Massimiliano Allegri non è l'allenatore della Juventus. Ma ci sono state voci e speculazioni su un suo possibile ritorno alla guida della squadra. Ma in che anno siamo? Tuttavia non ci sono ancora confermi ufficiali a parte di Juventus riguardo alla prossima stagione. È l'allenatore che guiderà la squadra. La decisione aspetta la società e non è ancora stata presa. Quindi al momento non è possibile dare una risposta certa alla tua domanda. Allora, mi è venuto spontaneo e naturale chiedere E chi è oggi l'allenatore della Juventus? E mi ha risposto l'allenatore attuale della Juventus è Massimiliano Allegri che ha assunto il ruolo a partire dalla stagione 2021-2022 dopo una pausa di due anni dal calcio italiano. Allora mi stai prendendo in giro. Prima mi parli di Allegri che non è allenatore. Potrebbe tornare, poi mi dice l'allenatore Allegri. Allora, prima hai detto qualcosa di inesatto. Cioè, l'ho fatto ragionare un bot. Non gliel'ho voluto dire L'ho fatto ragionare. E giustamente lui ha iniziato a contare con le dita e mi ha detto Mi scuso per l'incomprensione quando ho risposto alla domanda precedente non ho considerato il fatto che la stagione attuale era già iniziata. Una supercazzola. E che Allegri ha già stato ufficialmente nominato come allenatore della Juventus. Quindi sì, Allegri è attuale allenatore della Juventus. Grazie per avermelo fatto notare e avermi permesso di chiedere la situazione. Cioè, il bot qui ha ragionato ha messo insieme le due informazioni che ha dato lui e ha capito tramite la logica di aver detto un'eresia. Clamorosamente bello. Sarà che io sono un laureato in informatica quindi queste cose mi affascinano tantissimo ma clamorosamente bello. E io ho detto nessun problema quindi Allegri allenerà a Juventus anche l'anno prossimo? E mi ha detto attualmente non ci sono ancora conferme ufficiali riguardo la permanenza di Massimiliano Allegri come allenatore della Juventus per la prossima stagione. La società non ha ancora reso pubbliche le proprie decisioni in merito e ci sono ancora molte incertezze. Inoltre il calcio è un mondo dinamico e le cose possono cambiare molto rapidamente. Ad ogni modo dobbiamo attendere l'annuncio ufficiale da parte della Juventus per sapere se Allegri sarà l'allenatore della squadra anche nella prossima stagione. Al che gli ho detto grazie. Ultima domanda la Juve riotterrà indietro i 15 punti che gli sono stati sottratti dopo l'inchiesta plus valenze? No! La Juve non recupererà i 15 punti che gli erano stati sottratti dopo l'inchiesta sulle plus valenze. Nel 2019 la Juventus fu condannata a una penalizzazione di due punti nel campionato di Serie A. ma la sentenza fu successivamente revocata. Tuttavia nel 2020 la Juventus fu nuovamente penalizzata di tre punti nel campionato di Serie A per violazioni finanziarie legate alle plus valenze. In seguito questa penalizzazione fu ridotta a un punto dal Tribunale Nazionale Federale della FIGC ma la Juventus ha comunque perso il titolo di campione d'Italia e non potrà recuperare i punti persi. Ma che cazzo sta dicendo? È importante notare che la questione sulle plus valenze non riguarda solo la Juventus ma ha coinvolto anche altre squadre italiane. La Juventus ha preso le misure necessarie per conformarsi alle regole finanziarie e continua a lavorare per migliorare la propria situazione economica. Qua ha fatto un mischione di informazioni che ci sono state negli ultimi anni e probabilmente di informazioni relative al 2006 dove la Juventus ha perso il titolo di campione d'Italia. Ha messo tutto insieme e quindi non ho capito. e gli ho detto e perché non li riotterrà ha fatto ricorso e mi ha detto la Juventus ha presentato un ricorso contro la penalizzazione di tre punti sono 15 ma vabbè ma il Tribunale Nazionale Federale della FGC ha detto la penalizzazione a un punto c'è un rapporto uno a tre quindi praticamente noi otterremo cinque punti di penalizzazione dopo il ricorso usando questa logica questo ragionamento tuttavia la Juventus ha perso il titolo di campione d'Italia a favore dell'Inter che ha ottenuto più punti in classifica alla fine della stagione e ancora la storia si ripete ma quando è successa sta roba me la sono persa inoltre la Juve ha ricevuto anche una multa di 10 milioni di euro ma quanto per violazioni finanziarie legate alle plusvalenze e questo è stato uno dei motivi per cui la penalizzazione è stata applicata la penalizzazione è stata applicata perché abbia ricevuto una multa in generale le sanzioni imposte dalla FGC vengono applicate per punire le violazioni delle regole e preservare l'equità sportiva e la decisione del Tribunale Nazionale Federale della FGC è definitiva quindi la Juventus non potrà recuperare i punti persi a causa della penalizzazione al che gli ho fatto notare che stiamo parlando del 2023 e non del 2006 cioè qua si era già fatto tutto proprio anti-Juventina pura la chat GPT aveva già fatto tutto e poi mi scuso per la confusione al momento non ho informazioni riguardanti una recente penalizzazione della Juventus per l'inchiesta sulle plusvalenze cioè prima tutto e poi dice vabbè in realtà non ne so un cazzo è esattamente quello che è successo Juventus tu sei colpevole 15 punti perché te lo dico fra due settimane e poi se vuoi puoi far ricordare è uguale la stessa cosa la chat GPT e la giustizia sportiva tu sei colpevole ma perché ma te lo dico tu tanto sei colpevole ti tolgo i punti poi se vuoi parliamo più avanti stesse cose alla fine mi scuso per la confusione è identico è identico in ogni caso la FIGC è l'organismo preposto a gestire le questioni disciplinari di regolamento del calcio italiano e ogni decisione presa dal Tribunale Nazionale Federale della FIGC è definitiva se ci sono state delle sanzioni disciplinari contro la Juventus queste hanno avuto delle motivazioni specifiche e sono state applicate per punire eventuali violazioni delle regole del calcio italiano quindi non lo sa neanche lei al che ho capito che stavo surriscaldando i server e gli ho detto d'accordo grazie per la bella chiacchierata e mi ha risposto prego è stato un piacere parlare con te se altre domande in futuro non risultare a contattarmi di nuovo e questa ragazzi è stata la mia chiacchierata con con intelligenza artificiale con Chad GPT che sicuramente è da rivedere perché ha poche informazioni per quanto riguarda il calcio molto più ferrata nelle questioni di campo piuttosto che in quell'extracampo dove ha fatto un mescolone allucinante però ripeto non so quante persone siano riuscite a interagire effettivamente con Chad GPT in questi mesi quindi penso che sia anche già molto molto avanti se volete andare ad arricchire culturalmente questa intelligenza artificiale il link ve lo lascio comunque qui sotto in descrizione spero che sia stato un video piacevole tranquillo oggi c'era poco di cui parlare quindi mi è piaciuto fare questa chiacchierata e se vi è piaciuto magari nei momenti di pausa nazionale o in cui siamo un po' più tranquilli anche quest'estate sul mercato possiamo cercare di fare altre chiacchierate con l'intelligenza artificiale e farci qualche risata